Una scelta doverosa di cautela, di prudenza di fronte al dilagante esplodere di contagi non registrato in passato in Sicilia e a Palermo. Una scelta di cautela e anche di rispetto della scuola che può continuare, potrà continuare a distanza, sapendo che la sofferenza di non poter praticare e vivere la scuola di presenza è una sofferenza grande, ma che deve fare riflettere i tanti incoscienti che diffondono il contagio, non rispettando elementari regole e poi si stupiscono se i loro figli non possono frequentare di presenza la scuola. È il tempo della responsabilità di tutti e di ciascuno. Io, come altri sindaci siciliani, in attesa che chi deve decidere e decida, abbiamo pensato di limitare il danno, di ridurre i rischi e i pericoli per la vita dei bambini, ma per la vita di tutti.